Ho capito, ma tu sei sicuro che nella camera non c'è stato nessuno? Certo, e che fosse diventato cattolato? E certo che non c'è stato nessuno. E' studente della ricerca. Eh, tanto, l'ha chiamata tanto. E che ne sa, prima la rita non sa che cerimonia. Tutta ad un tratto si è nervosa. No, io ve l'ho detto, secondo me, il marito è nascito pazzo, proprio pazzo. Ma il mio vero, ma da lei, il mio vero. Si, 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 la capo ci funziona più. Si è andato a me uno consiglio. Stanotte, quando il marito ti ha cominciato a fuoco pazzo, ma se tu hai due o tre cavi ci avete lì, è vero come la passaggio. Cara mia, se i cavi ci fossero gatti di mille litri, il marito sarebbe milionario per quanto c'è una giornata. Si, dammi un filetottone, va. Sai, mamma. Ma la camisa è finita? No, ancora. Stai dicendo ancora la margherita? Ma hai capito che succede? Che va finita? Che sta arrivando il matrimonio? Prendiamo il tuo margiano a setello. Sai che succede quando ti prendi un pochino? Mamma, ma che dici? Vuoi vedere che per quel giorno sarà tutto pronto? I primi si spicciano perché Arturo non ce la fa più. E avrà ragione. Sono dieci anni che fanno amore. Mamma, sai che sto pensando? Cari in tuo corredo mio ci mancano belli lenzuoli e te la dolanda. Eh, solo che dicevo mamma, tu sai che non ci potete mi permettere. Anzi, fai una cosa. Pensa a trovare uno che sta bene al denaro e che ti spuso. Ma perché non può essere che trovi una bella fidanzata in un momento all'altro? E perciò stiamo aspettando il principal giro che sta dietro la porta. E che non puoi sapere? Questo momento è un colpo di fulmino. Domani scendo incontra uno e tac, ci fulminiamo tutti e due. E poi scusa, ma a te com'è successo? Non sei stato fulminato pure tu. Sei stato capace di far scusare la papà tra misera e la morte papà e mamma. Ma voi lo sentite? Poi c'era io. Io ero una gran signora, capito no? Faceva la camarera a casa l'avvocato Marughe e voleva una bella piena figlia. Pasquale veniva tutte le settimane a portare il dedo. Poi, quando rimase bello qua, ora c'era un po' di pasta, ma un po' di pano di reticcio. Noi giorni però mi ha rubato il vestito da figlio perché tu non devi che ti mettere. Ah signora, sono natura. E me ne faccia. E Pasquale che ha l'epreca. E' gentile con me, caro lì, ha l'epreca. Mi prendi da casa tu. E robo poco ma scusate. Noi, che ci sei straordinario. A te e tuo fratello vanno cresciuti come due figli che siamo ringraziamenti. Oh, guardate, sta arrivando Arturo. Arturo? E che fa Arturo a questo regalo? Eh, sta raggiunto pure una presa a qualche femmina. Sì, ti lo sembrava freschi, penso sempre a queste cose. E non fosse la prima volta. Ma no, questo mi mette nei fili con il cavallo e l'ho passato. Quando non c'è il punto, hai sull'occhio a chi dov'è? Ah, figlio Rusa Lumiera. Ma no, come figlio Rusa Lumiera? Che lo stai ridurendo? Prepa. Ah, sì? Eh, mi pare che sta malata. E a te che ti ha detto? Eh, ma ha detto... Ma non ti c'è lo pensare, sei un bucciato. Ma perché fai così? Ma vuoi capire che sta gelosia a lungo andare rovina tutto? È inutile, non mi fai convinta. T'hanno fatto tutte cose. Eh, voi non è un momento affascinato e gelosia. A chi hai visto? Ho visto il papà. Pasquale. E come? Che ti dici che ti va a colt'uolo a fare carico il vino dei posti di bellocchi? E poi che ne ti pensi? Che non c'è la città? Gesù, e che ti ha detto? Chi ti ha detto? Chi ti ha detto lì dall'officina che la pareva un pazzo. Povero. Poi mi è venuto vicino e mi ha detto posa questi ferrici, ma non ti servono più. Io mi arrivo a capazziavo e anche il ferrici che non la c'era da Uriese. Uè, sapete che l'ha fatto? Mi è venuto vicino, mi ha sciopato i ferramani e mi ha ammalato dentro la stanza. Poi mi ha sparato per un braccio e a capo ci ha buttato e mi ha emanato fuori. Voi non potete proprio immaginare che è successo. E che è successo? La vita è sentita. E stavo su te, mamma. In questo momento, andassi ora, devo dire. Il mio padre, mi ha detto con la scuola, lasciate stare il vostro figlio perché lì l'ha da faticare. Sapete che ci ha risponduto? Se i miei figli faticano o faticano non sono i fatti che vi riguardano. Pensate alla vostra moglie che ha tutto quanto sapere che si fa un farmacista. E che è successo? E che è successo? Ma ma mi dice, dice. Oh padre, è pigliato e mi ha emanato subito. Oh bene mio! Ecco qua. Ma siamo bene prima. Che vengono detto? Questa è stata sempre la rovina di questa casa. Sempre. Ma un momento. Questo è niente. Sapete quanto siamo stati sulle liste? Che mai? Artù, noi siamo diventati signori. Signoroni. Padre, da manco cinque minuti è diventato padroni di 40 milioni. Capito? 40 milioni. Eh sì, ma adesso, questo vero. è stato parlato, piacere. Diciamo. papà, ma invece di farlo non è mai legato a preparare i miei figli. Chi mi ha guardato e mi ha detto, Artù, tu sei più scemo di quello. Poi mi ha tornato il cavo e se ne è fuori. No, che va giudice. Questo è uscito pazzo. Ma non esagerate. Sì, Gabriella, non ci funziona più. Non ci funziona più. Eh babbo, mamma, non vi ho pigliato il collo, che le cose niente. Le cose niente. Io ho fatto il suo po' che le cose niente. E che aveva fatto questo? Eh babbo, ma alla fine qua sono le stranezze che ha fatto. ma alla fine qua sono le stranezze che ha fatto.